carissimi pace buona giornata di benedica oggi è 30 marzo grazie a dio un nuovo giorno il signore ce lo concede lo vogliamo ringraziare con tutto il cuore e vogliamo anche continuare nella lettura del libro di david plat seguimi libro edito da clc crociata del libro cristiano stiamo parlando intorno al ravvedimento e plat se ricordate aveva evidenziato alcune forme di ravvedimento di uomini che appartenevano a religioni dove si faceva uso di statuine e di altri idoli che rappresentavano demoni e altre realtà spirituali malvagie e ce l'avamo lasciati con una domanda e cioè cosa può significare per noi che viviamo in ambienti tra virgolette cristiani e che quindi non pieghiamo ginocchia davanti a idoli che cosa significhi per noi il ravvedimento afferma plat si tratta di una domanda estremamente importante in quanto mette in luce un difetto fondamentale del modo in cui spesso vediamo noi stessi quando pensiamo all'adorazione di idole di falsi dei spesso immaginiamo qualche asiatico che compra delle immagini intagliate di legno o di pietra o di oro o alle tribù africane che fanno delle danze rituali intorno a dei sacrifici fumanti non pensiamo però all'uomo occidentale che guarda alle immagini pornografiche online o che vede degli spettacoli televisivi o dei film immorali non pensiamo alla donna occidentale che compra continuamente sempre più cose o che è fissata in maniera ossessiva nel suo aspetto fisico non teniamo conto degli uomini e delle donne che nel mondo occidentale sono perdutamente innamorati del denaro e impantanati in un cieco materialismo è anche difficile che pensiamo ai nostri frenetici sforzi di fare carriera alla nostra incessante adorazione dello sport al nostro caratteraccio che viene fuori quando le cose non vanno a modo nostro alla nostra preoccupazione che le cose non vadano come vorremmo ai nostri abusi alimentari ai nostri eccessi a tutti gli altri tipi di piaceri mondani cosa forse più pericolosa di tutte sopravvalutiamo l'autorealizzazione spirituale l'autogiustificazione religiosa che impedisce a tanti di noi anche soltanto di riconoscere il bisogno che abbiamo di cristo non riusciamo a immaginare un cristiano che dall'altra parte del mondo creda che un dio di legno possa salvarlo ma non abbiamo problemi a credere che la religione il denaro i beni familiari la fama il sesso lo sport lo status sociale il successo possano appagarci davvero pensiamo di non aver meno idoli da abbandonare quando ci ravvediamo per tutti i cristiani di tutte le culture il ravvedimento è necessario questo non significa che quando qualcuno diventa cristiano improvvisamente diviene perfetto e non dovrà mai più sostenere alcuna lotta contro il peccato significa invece scrive plat che quando diventiamo seguaci di gesù diamo un taglio netto al vecchio modo di vivere e compiamo una svolta decisiva verso un nuovo stile di vita moriamo letteralmente al nostro peccato e a noi stessi al nostro egocentrismo alla nostra autoreferenzialità alla nostra giustizia all'indulgenza che abbiamo verso noi stessi al nostro impegno per farcela da soli all'esaltazione di noi stessi parafrasando paolo siamo stati crocifissi con cristo e non siamo più noi che viviamo ma cristo vive in noi e quando cristo incomincia a vivere in noi tutto ciò che ci riguarda inizi a cambiare la nostra mentalità muta per la prima volta capiamo chi è dio che cosa ha fatto gesù e quanto bisogno abbiamo di lui i nostri desideri si trasformano le cose di questa terra che una volta amavamo ora le odiamo e le cose di dio che una volta odiavamo ora le amiamo la nostra volontà cambia andiamo ovunque gesù ci dice doniamo tutto quello che gesù comanda e sacrifichiamo tutto quello che serve per passare la nostra vita in un'ubbighienza priva di compromessi alla sua parola i nostri rapporti diventano diversi deponiamo la nostra vita con amore gli uni verso gli altri nella chiesa mentre diffondiamo insieme il vangelo nel mondo in ultima analisi cambia lo scopo della nostra vita i beni materiali e la posizione sociale non sono più la nostra priorità le comodità e la tranquillità non sono più delle preoccupazioni la sicurezza non è più il nostro obiettivo perché l'ego non è più il nostro dio ora vogliamo una volta ravveduti la gloria di dio più di quanto vogliamo la nostra vita più glorifichiamo il signore più ci rallegriamo in cristo più ci renderemo conto che biblicamente essere cristiani significa esattamente questo permettetemi di concludere la lettura di questo paragrafo con un'esortazione che rivolgo a voi ma rivolgo anche a me dobbiamo analizzare la nostra vita nello specchio della parola di dio e cercare di comprendere tutti quegli idoli che ci sono nella nostra vita e che opprimono il nostro sviluppo spirituale soprattutto il nostro servizio e la nostra devozione verso dio lo diciamo spesso potremmo fare di più dovremmo essere di più consacrati e queste parole diventano quanto mai pericolose quando sono un modo per mettere a tacere la voce dello spirito santo che ci brama alla gelosia perciò il signore ci aiuti ad abbandonare tutto quello che non è nella sua volontà ad abbattere ogni idolo che si è innalzato nella nostra vita e a servire il signore ad amarlo più di ogni altra cosa e ad avere il nostro cuore rivolto verso cristo affinché in tutto e per tutto lo possiamo onorare che dio ci accompagni ancora oggi e che la sua pace e le sue grazie ci possano sostenere tutti i giorni della nostra vita pace del signore